Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, creni a tanti e lunghi e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre, faccio un attrezzo. Ok, resti. e riportiamo da una parte, così abbiamo un po' il collo libero. e comincio con un po' di scratching con le mie unghie sulla porta superiore della schiena, che secondo me è sempre quello un po' più sensibile ai grattini. perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? La risposta è che questo è un video, quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini. quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini nella schiena, così. ok. ok. adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di disegno, facciamo un po' di onde del mare. questo non è un po' di quanto. quindi con il sole, con tanti tanti raggi e una nuvola come oggi, mi sentivo un po' monopoloso un soleggiato monopoloso ok facciamo qualche riga ti piace? si ok adesso proviamo con qualche parola ovviamente cominciamo con relax per essere molto scontati e e n a x 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 Scriviamola anche in maiuscolo L L A L A N D ok ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con il massaggiatore ok 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 un po' sulle spalle ok 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 ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui e ho scelto questi tre super morbidi uno due e tre e andiamo a fare un po' di brushing anche un po' sul colore e' super morbido e' super morbido sui contorni della schiena sui contorni della schiena in questo modo e poi vado a riempire come se fosse un corpo delicatamente e poi vado a riempire come se fosse un corpo delicatamente anche ok andiamo sul collo sulle spalle e giù e su e giù e su e giù e su in questa volta e su e su e con adesso e la cordura di sirene che vi cazanate Usiamo anche l'altro Questi coperti sono bellissimi Questo è molto più largo Non ho mai capito cosa serve questo pennello, tanto a me serve per fare video E piano, piano, piano Seguendo il informe della schiena Grazie 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 Cominciamo con un bel triangolo Facciamo un rettangolo Cancelliamo Facciamo un bel giro Cancelliamo Cancelliamo Questa è una stilizzata Abbiamo un triangolo Abbiamo una porta E due di mestrelle Le minuti artistiche sono veramente apprezzabili Il cammino Con del fumo E poi abbiamo l'erba Tutto qui Il tipico disegno dei bambini Un albero E tanti fiori di rini Un'altalena Poi facciamo due nuvolette E il sole Ok Allora io spero vi siete rilassati con questo video Adesso lascio anche i capelli E vi auguro una buona notte Lo rompo Lo rompo E si spade Ok Scegliamo l'attrezzo E intanto vi auguro una buona notte Una buona giornata Spero che questo video vi abbia rilassato Vi abbia fatto quasi chiedere gli occhi Quasi O del tutto Buonanotte 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 lì 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 che le spero